Il principe Harry è stato preso di mira per aver esortato i britannici a lasciare i lavori che non portano loro gioia, il duca del Sussex ha dichiarato alla rivista economica statunitense Fast Company che le persone bloccate in lavori che non danno loro gioia dovrebbero smettere e mettere al primo posto la loro salute mentale e la loro felicità. I commenti hanno provocato il contraccolpo di alcuni che hanno affermato che lo status di milionario di Harry significa che è fuori dal mondo. Il giornalista e giornalista reale Rob Jobson ha chiesto, come fa a saperlo? Nel frattempo, un altro lettore scontento si è rivolto a Twitter per esprimere la propria frustrazione, chiocciola Naomi Schittrattino Basso 15 ha detto, smettere è bello. LOL, certo, lo direbbe, non ha idea della vita e di cosa serve per sopravvivere da soli. Se lasciamo tutto ciò che non ci piace, o i nostri genitori e nonni lascia la guerra, i lavori noiosi o altro, non cresci e non rafforzi il tuo carattere.